E' la sinistra che alimenta il razzismo, secondo me anche coscientemente. Una sinistra che sa che economicamente non ha le ricette per uscire della crisi e quindi alimenta un'immigrazione incontrollata per ottenere reazioni esasperate. Mai giustificabili, perché la violenza non è mai giustificabile, né giustificata, comunque parte venga. Però se la gente soprattutto nelle periferie si ribella è perché, ad esempio vi do il dato di Milano, il 65% dei casi popolari è assegnato a cittadini stranieri. che rappresentano il 15% della popolazione e quindi delle due l'una. C'è qualcosa da cambiare. Sull'immigrazione irregolare invece io sono assolutamente totalmente inflessibile. Riporterei a casa, con il barcone, con la zattera, con il deltaplano, con l'aereo, qualunque immigrato regolare metta piede sul suolo italiano. Sulla Germania mi auguro che il no alla violenza è senza sé e senza ma, ovunque, ovunque in giro per il mondo.